Da oggi sul sito istituzionale del Comune di Pescara c'è una speciale sezione dedicata al PNRR, ai progetti che riguardano proprio l'ente. Sì, era fondamentale predisporla perché tutti parlano di PNRR, però noi vogliamo fare in modo che i cittadini conoscano perfettamente l'iter legato all'acquisizione di finanziamenti per rigenerare le città, perché il processo è questo, noi parliamo di transizione ecologica, transizione ambientale, transizione civica, transizione digitale, di rigenerazione urbana, di scuole nuove, di efficientamento energetico, tutti interventi che cambieranno il volto della nostra città. Lo facciamo anche informando i cittadini. Questo sito che noi abbiamo istituito con una sezione apposita dedicata ai finanziamenti PNRR all'interno del Comune di Pescara ci permetterà e permetterà ogni cittadino di avere coscienza e cognizione di quello che il Comune sta facendo e di come si ottengono i finanziamenti e di quali lavori si stanno facendo. Il sito è molto chiaro, è molto semplice da utilizzare e ci sono schede specifiche per ogni intervento che permetteranno al cittadino di capire che intervento si va a fare e soprattutto quale vantaggio porta quell'intervento alla comunità in generale e anche al risparmio delle risorse perché oggi è fondamentale avere un risparmio di risorse energetiche perché il prezzo di energia è scoppiato e dobbiamo fare in modo che ogni struttura sia autosufficiente. Questo è l'obiettivo che vogliamo cogliere. Così come sull'inquinamento noi vogliamo che questa città sia una città ad impatto inquinante zero, quindi mezzi pubblici elettrici che stiamo acquistando, mobilità alternativa. Ci sono tanti processi che si sono avviati. Vogliamo che i cittadini li conoscano perfettamente e soprattutto diciamo anche che il Comune di Pescara come al solito è all'avanguardia perché questo sito così preciso credo che sia il primo in Italia. Penso che ci copieranno molti.